Il fatto che Israele pesca un'altra religione ci porta a fare delle considerazioni sul mondo d'oggi. Però ci porta a fare delle considerazioni sul mondo d'oggi anche un altro dato. Provate a leggere con una attenzione la riga 12 e 13. Dio non aveva fatto più avverso la terra, nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Se notate anche la stampa italiana mette in evidenza che è una parentetica, è un incisivo a questa qua. C'è una lineetta alla linea 12 e c'è un'altra lineetta alla linea 13, prima del versetto 7. Se notate questa è una glossa di che tipo? Chi può averla scritta? La scritta uno che è sedentario. Queste cose non possono essere scritte da uno che è nomade, che è pastore. Chi è nomade non scrive questo. Chi sente bisogno di scriverlo rompendo il tessuto letterario, è un sedentario il quale scrive dopo che il testo è già stato redatto. Questo è già stato scritto e lui ci aggiunge questo particolare. Seconda cosa, questo nomade che scrive così, facendo ad un'esperienza culturale che gli ebrei non conoscono. linea 13, che faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irridare tutto il suono. Faceva salire dalla terra i canali. Sembra che facciano un posto artesiano. La canalizzazione è tipica della messa totale, non di Israele. In Israele la canalizzazione per ridare i canti è impossibile, siamo in collina. Nell'arco di israele non abbiamo i canali, ma abbiamo i wadi. E gli wadi sono sempre asciuti, tra una delle altre zone in cui piove. Qui invece si rispecchia una cultura che è classica, in questa terra tra i due fiumi. Quindi non abbiamo solo un testo trans-religioso, ma abbiamo un testo trans-culturale. E anche qui è giusto fare una grossa riflessione, non è compito mio perché io non sono antropologo, ma è giusto far notare come il mondo ebraico, che fondamentalmente è un mondo chiuso, stranamente è capace di dialogare anche con le altre culture, cioè con un altro modo di pensare la vita, di pensare i rapporti, di pensare i valori. Noi oggi abbiamo una paura folle dell'istante. Non si capisce perché. Forse perché non lo conosciamo. Forse perché a noi arrivano delle notizie mediate dai massi media che non sempre sono credibili. Io penso che i giornali e le televisioni oggi facciano nei confronti dell'Islam lo stesso cattivo servizio che ha fatto il Nuovo Testamento e il rapporto ai farisei. Quando noi oggi diciamo farisei, cosa diciamo? Un posto di buono, un ipotica, un falso, un anguilloso. Se noi invece studiassimo l'identità di queste persone ci accorgeremo che nell'epoca di Gesù il 90% non era così. Il 10% purtroppo era così. Il Nuovo Testamento viene accontato con questo 10%. Perché sono quelli che rompono l'anima di più. E allora il Nuovo Testamento registra questi rompimenti d'anima che sono fatti dai farisei. E allora noi abbiamo questa idea dei farisei che invece è una percentuale minima rispetto invece al corpus globale e non è neanche rappresentativa del mondo farisei. così noi oggi conosciamo l'Islam attraverso il fondamentalismo che non è la parte rappresentativa dell'Islam. Questo non significa che non sia difficile il dialogo con l'Islam. Ma la conoscenza che abbiamo è distorta da questi fattori. La sopravvivenza di una cultura è data dalla capacità di dialogo e questa cultura ha come le altre. Non esiste mai una cultura chiusa. Ogni cultura chiusa è destinata all'ascoltarismo. Per natura loro le culture sono sempre in evoluzione e l'evoluzione risponde ad una specie di logica che già Hegel aveva priorizzato. c'è una tesi la cultura in cui mi trovo c'è una antintesi la cultura con cui mi hanno la conclusione si troverà diversi tutti e due. C'è una sintesi dove io sarò cresciuto ma che altro sarà cresciuto. Per cui in un dialogo successivo io non sarò più uguale a quello che ero prima e lui non sarà più uguale a quello che era prima. Conoscere queste piccole leggi che poi sono le grandi leggi della storia significa osservare i problemi e poterli accostare con un atteggiamento umano e dialogante che non significa perdita della propria vita. Rifiutare questo atteggiamento significa creare puro contro il mondo e coprensione di guerre e sapere come dice a me per esempio fa male poter constatare che dopo 400 anni finalmente il mondo dei dogmatici cattolici va d'accordo col mondo dei dogmatici luterani quando a noi bibiristi è ormai per 300 anni che abbiamo d'accordo di bibiristi cattolici di bibiristi cattolici ma nobili romani si è ormai per dire che la propria vita dopo 300 anni i dogmatici luterani cattolici si sono accordi si sono scomunicati per niente mi rendete conto su tante cose siamo stati separati per niente semplicemente perché uno guarda la faccia della medaglia e l'altro guarda l'altra la faccia della medaglia stiamo dicendo la stessa medaglia solo viste con facce diverse poi ci siamo accordi che la medaglia è la stessa e allora se da una parte si diceva ci si salva solo per fede e dall'altra si dice no sono le opere che ci salvano finalmente ci si accordi che veniamo salvati solo per grazia in tutti i due casi in tutti i due casi così il dialogo dunque con l'altra cultura è già in sito di questo testo i semi chiamiamolo così della crescita sia religiosa sia culturale sono già in questo testo per dire per dire che non è ma che è tale 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 io per esempio in un ambiente nel concetto di Dio non ho mai visto di Dio mi pare che le cose le dovremmo impostare in questa maniera se è vero che esiste un dialogo o che è opportuno che esista un dialogo il dialogo avviene tra due diversi perché se sono due identici c'è un monologo tutti i due dicono la stessa cosa ora nel dialogo per noi cristiani è chiaro che abbiamo un punto di riferimento che si chiama rivelazione nel testo biblico si dice che Dio verrà a giudicare i divini e i morti che tipo di giudizio sia questo forse vale la pena esplorare provate a vedere il Vangelo di oggi se noi lo leggiamo in maniera veloce sembra che Gesù Cristo torni per dare una rigata a tutti i quali mentre invece se leggete con attenzione il testo voi vedrete che Gesù dice ai suoi quando dovrete tutte queste cose alzatevi e levate il capo perché la vostra apoliprosis che ci viene il figlio dell'uomo il titolo che Gesù assume quando diventa giudice ma per quanto riguarda coloro che gli appartengono non è un giudice che condanna ma è un giudice che libera e come è colui che rivela un processo e dice hanno sbagliato a condannare l'espressione alzatevi e levate il capo è un'espressione rarissima sanunca e viene adoperato una volta sola soltanto una volta nell'episodio in cui Gesù guarisce una vecchia che è curva ed è piena di artrisne artrosi artrini e assolio non riniesce da tassi e Gesù la guarisce per attrezza e lì viene adoperato proprio questo tipo di merda e Gesù commette era giusto che avesse così perché anche lei è figlia di Abraham e Sadhana la teneva soggetta da troppi anni l'alzare il capo dunque non è solo un'arrizione fisica ma indica la liberazione da questa subitanza normale è una cosa che fa la vecchietta ma perché Gesù è intervenuta lì quelle alzate di elevare il capo sì lo facciamo noi ma perché è lui che interviene a coppire la liberazione da che cosa da quel male che gli sia soggettato capite che un processo questo non simica a quello che pensiamo noi in tribunale ma è il processo dell'apolitrosi della liberazione in cui il Signore non opera una bilanciata vediamo dove ci sono più opere patite più opere buone questo lo farà dopo ma prima copie il perdono copie la liberazione e quindi il giudizio inteso in senso nostro che verrà dopo è chiaro che non fa più paura perché se io arrivo in tribunale già assolto il tribunale cosa sarà e dirà non c'è l'uomo a procedere c'è il caso teorico di chi arriva a rifiutare anche questo ultimo appello e allora dopo questo ultimo appello ci sarà la valutazione se tu vuoi stare lontano da me non ci posso fare pieno questo sarà il giudizio che si farà spiego per capire questa logica invece di fare il libro delle aziende che dovremmo fare di Marcello di Giovanni perché nel Marcello di Giovanni questa logica è di una chiarenza alla ripetere a uno capitolo è ovvio che inteso in questa maniera noi abbiamo più che giudizio abbiamo l'ultimo appello in cui se l'uomo è aderente al vero è onesto verso ciò che è vero l'uomo viene salvato da Dio o meglio l'uomo accetta l'ultima possibilità di salvezza che Dio gli offre è chiaro che in questa ottica parlare di Dio giudice è giusto alla maniera orientale se lo investiamo di un contenuto occidentale si rendete conto che è devianto chiamare Dio giudice all'interno di questa logica piuttosto è corretto chiamare giudice quanto revisore di un processo oppure chiamiamolo direttamente è un giudice liberante oppure chiamiamo via la parola giudice arriverà un Dio liberatore in questo caso tra noi e gli orientali c'è una differenza sia per noi sia per loro Dio è colui che ci accompagna sempre però poi per noi alla fine interviene interviene anche robustamente liberarsi in Oriente Dio che accompagna e vada perché se tu compi dei gesti che sono contrari al karma tu per castigo ti rendi carni e Dio ti sarà incoraggito ma in Oriente non esiste un Dio che rende esiste un Dio che non fa mentre noi abbiamo un Dio che rende un Dio che rende un Dio un'grossa differenza nel concetto di libertà e la si nel dialogo noi non possiamo pronunciare al dato di un Dio che rende perché è da sempre da Abramo in avanti Dio viene conosciuto solo come Redentore il concetto di Dio creatore è secondario ed è tardi in cui provate ad osservare il verbo che viene adoperato per indicare Dio creatore Dio fece un verbo così merito che dice Dio e quando Dio fece eccetera per trovare il verbo barà e poi barà non vuol dire esattamente creare dobbiamo aspettare il sesto secolo cioè esattamente settecenti anni dopo dell'origine di questo testo questo testo è tanto scritto settecento anni prima di questo testo che noi abbiamo letto settecento anni lo stesso rapporto che esiste tra Dante e Alighieri e noi sottolineate di più il fatto che Dio e nostro compagno di strada nel cristianesimo sarebbe un quadrato perché l'equivoco di Dio giudice è l'ultimo e diciamo l'equivoco come giudice noi lo abbiamo anticipato nella nostra vita per cui quando facciamo percaduccio ci girano i venerdì chiamo giù quattro sette sentiamo rabbia dentro di noi immediatamente sentiamo un po' di disagio poi magari il cicario per il vaso di cristallo sul piede si fa male l'unghia rompiamo il vaso la moglie si arrabbia e noi pensiamo per automatissimo ecco io mi abbia arrivato perché mi sono è un background è un retroterra psicologico malato Dio non è giudice che pensiamo e tanto meno lo è adesso e tanto meno si replica e tanto meno funziona e invece persiste nel cristianismo e vi permettetevi di essere eccessivamente chiaro per colpa di qualche persona che si dice cristiana che pretende difendere il cristianesimo e il cristianesimo per un capitolo del loco a causa di questa persona viene continuamente inattato nel tessuto cristiano di questo concetto che è assolutamente il blasfemo e degli altri di questo concetto il mosto alla porta e bus se non mi apre io e sto e ci sarò con lui e lui Gesù lo dice nell'Avocalisse guardate lo stile di Gesù se vuoi viene a sé questa è la stile noi avete cosa abbiamo parlato un Dio padrone e best in la migrazione del Signore del Sant'Evario tra l'Oriente biblico diciamo così che è in Giappone geograficamente ci sono migliaia di chilometri di distanza ma su tante cose c'è una sintamina e vi faccio un esempio se avete la Bibbia se non ascoltate se voi parlate del Salmo 18 versetto 26 voi qui avete uno dei famintissimi testi dell'Antico Testamento che vanno traducendo con i testi buddhisti nel mondo buddhisti si dice che Dio si manifesta a noi per ciò che noi siamo eserzo 26 testo della Liberazione Biblica con l'uomo con l'uomo tu sei un uomo con l'uomo intero tu sei intero con l'uomo puro tu sei puro con l'uomo perverso tu sei nessuno Dio dunque si manifesta a me in sintonia con ciò che io sono guardate che per me questo è buddismo puro e Bibbia pura noi qui abbiamo uno dei tanti anelli di congiunzione tra quello che è l'esternienza diciamo così orientale del vicino oriente e orientale dell'inforzano di Sant'Agrostino parliamo la del daltoro dicendo una cosa semplicissima in interiore o nell'uomo più profondo vive la verità torniamo al testo perché vediamo se riusciamo ai venti minuti a passare tra segno alcune di tempo altre le abbiamo già toccate nel testo biblico il modo in cui Dio crea siamo la linea 65 quindi siamo nel verso del foglio che è adottato un verbo che è il verbo Yadar il verbo Yadar è il verbo del vasaglio quando il vasaglio plasma il vaso si dice Yadar con il Dio plasma l'uomo con la stessa pazienza con la stessa arte con cui il vasaglio plasma il vaso questa visione ricorre molto spesso in Israele Isaia è quello che lo sfrutta in maniera dura io ve lo riportare in due le esti perché comprendiamo il significato di questo modo di concepire Dio che crea l'uomo guai siamo la linea 67 guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore per dissimulare i loro piani guai ovviamente a coloro che agiscono nell'eterno predicendo chi ci vede chi ci conosce quando siete perversi forse è il vasaglio estimato pari alla crema cioè forse che Dio estimato pari all'uomo un oggetto può dire del suo autore il vasaglio non mi ha il fatto lui e un vaso può dire del vasaglio non capisce questo è un discorso duro perché miseria vuol portare a galla certi affeggiamenti che noi uomini abbiamo nei confronti di Dio quando diciamo lui è morto a 30 anni o a 33 secondo la tradizione popolare e non sa anche cos'è la vecchia mia allora cosa vuol venire a parlare oppure Gesù non è un amico sposato non ha mai saputo cosa voleva dire avere una moglie avere un figlio avere una sua c'era di rompe non è che in questi discorsi imprendendo la scattata non parliamo poi degli annessi e connessi io vi ho detto solo la parte più innocente di certe riflessioni che io sento ma il mio parla non dare a loro mi taglia e Isaia lo dice ma scusa chi ti ha fatto quelli non ti conosci e tu che sei una cosa fatta puoi dire a chi ti ha fatto a non capire niente l'altro testo che non è dell'Isalia di Gerusalemme ma è proprio etanonimo di Babilonia io formo la luce e creo le tenebre e faccio il bene proprio con la scelta chiaro Dio fa il bene e permette il male questa bella frase del Catecismo io vorrei che la mettesse in confondo con questo testo che è rivelato io sta parlando di io formo la luce e creo le tenebre io faccio il bene e io provoco la sciaruga adesso vedete vi raccorda di Catecismo io non sono capito ma che non sono astante capito io il Signore comprio tutto questo potrà forse discutere con chi lo ha trasnato un vaso fra gli alti vasi di anzilla dirà forse la creta al vasario che fai oppure la tua opera non la amami chi oserà dire a un padre che cosa senti o a una madre che cosa parlorisci dice il Signore il Stato di Israele che lo ha trasfatto vorrei interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani io ho fatto la termina e su che ho creato il cuore io con le mani ho disteso i ceni e do ordini a tutte le loro schiene io l'ho stimolato dalla giustizia spianerò tutte le sue vie e ricostruirà la mia città e manderà i miei portanti senza le ma e senza tre ali c'è il signore che sta parlando questo profeta della liberazione che c'è lo maternente sta parlare nei confronti degli ebraisti se vi notate però le due immagini sono abbastanza vicine del vasario dove Digno rivendica la sua completa libertà e autonomia nei confronti di un progetto di cui l'uomo è co-protagonista con Dio ma non è protagonista del sì in altre parole possiamo ragionare così noi appropriamo molto spesso di una libertà che non è nostra la mia vita la mia famiglia la mia casa la mia carriera la mia pensione domani farò così domani farò volante ed io stanotte sotto voce tutti i piedi dicevano anche subolti stanotte veramente non è avere questa percezione che noi il tempo che abbiamo è un tempo che ci viene regalato la vita che abbiamo è una realtà che ci viene regalata i progetti che facciamo e la realizzazione che si compie che ci viene regalata anche se noi siamo protagonisti nessuno diceva ma questo protagonismo potrebbe essere interrotto ogni momento il fatto che noi possiamo essere protagonisti anche questo è un racconto ragionare in questa maniera significa recuperare quel senso originale della linea 65 allora che il Signore Dio lascò l'uomo da ricorsa l'opera se leggiamo il divino di Ebraico ci vediamo sopra e chi non lo conosce basta che guardi e dice non è importante lì è scritto a par mi ad am ponere dal suo non volvere del suo min ebraico è sempre una preposizione separativa provate a fare un salto da linea da parte allora il Signore Dio è il suo verbo plasò una delle due non stanno parchiando posizioni a tavole non stanno facendo penitenza non lo so dire allora il Signore Dio plasmo dal suo ovo notate che il stesso ebraico dice min adama cioè la stessa espressione che trovate la linea il 65 l'uomo è fatto dalla polvere fine della terra gli animali sono fatti dalla terra della terra c'è dunque qualche cosa che noi condividiamo come noi siamo parte impegante della natura del cosmo e molto spesso lo dimentica distruggere la natura significata distruggere la natura sin adattare la natura sin adattare la natura sin avere cura di un albero significa che sembra un assurdo perché noi diciamo un albero che dura c'è una sintonia severa tra noi è la realtà creaturante ma trattare un animale vuol dire non trattare noi sessi ma non è vero sì è vero perché i azari i azari io trasformo l'uomo e trasformo l'animale noi siamo parte dalla terra per l'animale per l'animale abbiamo la stessa prigione siamo in perfetta sicurezza per molti esperimenti dov'è che non cambiamo noi cambiamo perché dice il testo che Dio soffiò nelle nostre narizzi vedete che non è un plurale è una costruzione che sarebbe un alito di vite di vita non una sola ma è più di quando non si sa andare nella linea 94 se andare nella linea 94 lo trovate disegnendo il marico Nishmat 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 e Ando allo stato costrutto Nishmat Ha I In Di Esistente Vivite se noi stessi solo a questo concetto e a noi non a quello che viene subito dopo e cioè divenne un essere vivente noi potremmo ipotriutare e fare un cammino ma subito dopo si dice che Dio soffiò sull'esercito e divenne un essere vivente essere vivente espresso in termini molto belli con questo Mephesh Mephesh indica l'Io che non può essere intanto perché Mephesh è il respiro di guarda il respiro è la gola che fa infatti inizialmente Mephesh è questa parte anatomica che è solo tua perché la voce è solo tua il modo di respirare è solo tuo il modo di parlare è solo tuo Mephesh poi passerà a indicare il mondo interiore e poi diventerà sostitutivo del prodotto personale ma di io quando dunque Maria Vergine dice chi parla è l'anima mia magnifica il Signore in una forma molto organizzante che si dice io magnifico il Signore allora l'anima non è il si compra il mondo librico no l'anima è l'invenzione della filosofia è l'invenzione nel senso di intervenire ci scoperta dalla filosofia elenica il mondo biblico deve arrivare al terzo capitolo del libro della sapienza per intruire che esisterà però siamo nel 30 ma quindi per tutto l'antico tentamento il concetto di anima come noi rivediamo non esiste non c'è e nel nuovo tentamento alcuni scritti lo hanno ricevito altri scritti non l'hanno ricevito bene noi possiamo chiedersi che cosa significa per l'uomo essere attivato alla vita da questo soffio di Dio pur condividendo molto con un mondo della creatura vuol dire che l'uomo è l'anello di congiunzione tra il cosmo e il trascendere perché noi abbiamo dentro di noi una realtà che appartiene a Dio ce l'ha soffiata dentro le narici di certezze è un modo molto mitico per indicare questa scintilla di Dio che esiste in ogni persona questa specie di nostragia dell'altro però contemporaneamente bisogna riconoscere in ogni persona questo bonus questo peso che ha un po' da essere parte grande del cosmo nessuna realtà del cosmo possiede questa duplicità appartenere a un mondo ed avere dentro di sé una scintilla di un altro mondo l'uomo si e questo è il mistero dell'uomo del mondo dell'uomo dell'uomo di travestanza non ha capito ancora che esiste l'uomo non sa che esiste dentro al mondo dell'uomo tutta una serie di realtà di Freud e tutti i suoi amici successivi hanno imparato da maniera evidenziata Freud negando l'esistenza di un diario e volendo questo mondo dell'uomo raccontando il generale e gli uomini e gli uomini e gli uomini e gli uomini non sono esperti ma di essere esperti e gli esperti e gli uomini e gli uomini questo uomo ha dei compiti se voi mettete insieme siamo ravine a 99 centri mettete insieme i due versetti i versetti i versetti i versetti i versetti i versetti e vedete che ci sono tre veri interessanti Dio piantò l'uomo coltiva e custodisce la stessa realtà Dio mi addò un giardino l'uomo viene posto nel giardino per coltivare il giardino e per custodire il giardino una cosa una forma molto simpatica per indicare la creazione e l'uscita dall'uomini Dio bisognoce di un completamento e questo completamento lo ha affidato all'uomo il compito dell'uomo a livello di lavoro nella scienza e nella ricerca scientifica non è altro che completare ciò che Dio ha avviliato e questo metodo Dio lo adopererà sempre nella storia Dio inizia e poi dice all'uomo che sopra di la bicicletta di l'alto per l'alto Dio Dio è più occupato di l'alto anche nel Nuovo Testamento se voi ricordate le parole di Gesù risolto dice come il Padre ha mandato me in un male dopo ancora due minuti e qui via un po' dell'alto all'inizio dell'umanità c'era un fatto quale fatto ci fosse non lo sappiamo qui viene definicato in modo mitico cioè Dio dice all'uomo tu sei il padrone di tutto ma di quest'altro per perdere il male mi raccomando non le devi mangiare perché altrimenti mori messi questa è la formula di alleanza unilaterale della vita io ti do tutto non ti chiedo in contracambio un'altra cosa ti chiedo in contracambio un'obbedienza che è limitativa di un elemento nei confronti di tutto ciò che io ti do io ti do ipotesi 100 miliardi un miliardo non toccando è tuo ma non toccando 99 miliardi tu farei cose non più chiaro io ti do io ti do ma nel tardi ti metto una condizione è un'alleanza ed è l'alleanza unilaterale e donativa neotestamentale anche nel nuovo testamento noi abbiamo un'alleanza bilaterale io sono il tuo dio tu sei obbligato ad osservare i comandamenti se no ti do il nuovo testamento e l'alleanza unilaterale donativa del nuovo testamento Dio dice di una certica salvezza si se sbagli io ti do il perdono ma che tu non chieda ti metto queste nuovezze quindi ti regalo tutto e nel regalo che ti faccio ti metto queste nuovezze da te non fiedo niente solo la luce di questa logica noi possiamo capire poi tutta la storia di israeli ma anche la realtà di Gesù Cristo non a caso Gesù quando dice le parole spulcate dice parla esplicitamente così questo è il sangue della nuova ed eterna è un'alleanza versato da fuori per tutti ecc ecc Gesù fa proprio riferimento a questa tainetia te che greco da rinda bascià se lo dico che si rifà questa prima alleanza dell'eterno è un'alleanza gratuite la donna la donna lo studiare per il secondo il grosso problema è la linea 7 11 questo è un problema non la cosa non il test è grande con due parole dicendo le cose giganti e anche un pochettino ose la cosa gigante è nel primo termine che si legge Heather Heather è il grosso dell'esercito io voglio fare il grosso dell'esercito e ma le prime che voto non noi loro hanno voluto tradurre ancora una volta aiuto il concetto che diminuisce il valore della persona o della donna e il test dice che la donna è molto più ma chi è che siamo l'avanguardia cioè siamo i temerari questi temerari senza il grosso dell'esercito non servono a niente perché una volta che l'avanguardia non prende contato come ne dico se non arriva il grosso dell'esercito l'avanguardia l'esercito l'esercito sarebbe cerco senza l'avanguardia e l'avanguardia sarebbe completamente antichil se non c'è il grosso dell'esercito o dice la seconda parolina quella più lunga che è necto l'esercito l'esercito è una parolina poltogalica significa fare tricotraco vizio di questa sarebbe la doccia se dovessi essere crudente dovessi fare l'amore per davanti o terminate lì ed è qui che è nato l'alternativa che vi stia di fronte come a specchio e che adesso li hanno solaneamente volgiato e che invece nella seconda versione che io ho proposto che vi corrisponda quindi troverete nella prossima traduzione non è bene che l'uomo sia solo gli voglio fare un aiuto che gli corrisponda molto meglio di un aiuto che gli sia sempre secondo dato la donna nasce da una delle nostre l'expressione ebraica sarebbe a heart una mi e poi c'è mi dal ho dal è impossibile per voi preoccupate vivi o separato mi è la particella di distanciazione una dal 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 ho è plurale se la è il singolare da è sinonimo di plurale dal ho t invece quelli o e quel vau che si pronunciano come fosse semplicemente un vau è l'aggettivo possessivo ecco l'aggettivo possessivo plurale ecco questo significa demoralizzare in condizio di ero ebranico ma non preoccupare di mitachotav significa una dalle sue zelach zelach di per sé vuol dire terrapieno battente lato allora Dio tolse uno dei terrapieni all'uomo e fece la donna senza Dio tolse un battente direbbe il potono Dio tolse un lato del lato dell'aggettivo dell'aggettivo di la lato l'idea sarebbe Dio tolse la complementarietà per cui da quel momento l'uomo è niente senza la sua donna e la donna è niente senza il suo uomo quindi non si parla di matrimonio si parla di questo episodio di complementarietà che esiste tra l'uomo e la donna e l'altra questa complementarietà come viene saturata attraverso il matrimonio attraverso l'amicizia attraverso la fraternità queste sono forme antropologico storiche qui si parla sempre dell'uomo in quanto l'uomo della donna in quanto l'uomo è quindi questa interversione viene indeterminata forma si chiama la donna perché dall'uomo è stata tolta c'è la linea sempre di questo gioco fonetico ma notate che sono due radici diverse la prima parolina a destra vuol dire donna ishah l'ultima parolina a sinistra me sarebbe la frase di quel famoso min separatino quindi tirate via me e vi resta ish cernale un iot un shin mentre invece vedete che nella donna cernale un shin un he lo iot non c'è devo dire che sono due radici diverse a livello di suono sembra un maschile ish e il correlativo femminile isha mentre invece niente da fare sono due radici e come io dicessi il bottone deriva dalla botte stesso scherzo fonetico lo si ha in ebranico ma non ha nessun tipo di giustificazione slantica perché abbattengono i due nomi a due la psicologia più diversa l'amore l'amore san ricordati il primo amore in assoluto nel genitore l'uomo lascerà la sua madre quindi l'amore materno filiale viene dopo prima prima c'è l'amore dell'uomo per la sua donna e della donna per il suo uomo poi c'è l'amore per i figli per i genitore guardate che è molto importante queste cose noi abbiamo oggi ancora ma che volte ma avremmeno perché questo piccolo pieterchio non è stato molto che prima per cui la mamma si stufa nei figli è una roba perché i figli se ne vanno perché si sposano non si trova tanto che sarà per tanti anni chiamando marito ma non l'altro è tanta cosa circa la nudità ci vediamo soffre perché non rientra niente che fare con erotica ma ha a che fare con la tragicità la fine prudine il bisogno quindi possiamo dire l'uomo la donna si sono scoperti bisognosi finiti facendo parte di una fragilità cosmica ma non ero l'altro vergogna di essere persone bisognose fine per il nostro corno andiamo sporando di pronto per il greco facciamo solo venti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti